Sfida di alta quota, quella del campo testa in questa terza giornata di ritorno, va in scena infatti il derby tra Tor di Quinto ed Atletico Roma. Padroni di casa terzi in classifica in coabitazione con il Savio, mentre sesta è l'Atletico Roma, che dopo il successo sul Monterotondo spera nel colpaccio per non perdere ulteriore contatto dalle prime. Partono un po' timide le due squadre con il primo tentativo che arriva al settimo. Manzoni riceve sulla tre quarti, si libera e fa partire il destro, che mette in difficoltà Matera, che se la cava in due tempi. La risposta dell'Atletico Roma è affidata all'altro numero sette in campo. Cataldi ci prova infatti con una gran botta dal limite dell'area, la rispinta di Placidi, con Berruti che poi allontana il pericolo. Partita piuttosto equilibrata, ma sono gli ospiti a provarci di più in questo frangente. Al decimo, bello lo spunto di Zoppis, che serve frate Arcangeli, il tiro di prima intenzione, però non c'entra lo specchio della porta. In chiusura di tempo, altro tentativo dell'Atletico, con Zoppis che stavolta fa tutto da solo, salta seconda e prova il tiro a giro. Molto pericoloso in questo caso il numero otto in maglia bianco-blu, con il pallone che termina di un soffio sopra la traversa. Si chiude dunque senza reti un primo tempo equilibrato, ma privo di forti emozioni. In avvio di ripresa però il tor di quinto sembra scendere in campo con un piglio diverso. Al quinto subito padroni di casa vicini al vantaggio. Atturro viene servito sul filo del fuori gioco, prova il diagonale il numero nove con il pallone che arriva a Toscano, che impatta male e non trova la porta. Grande occasione sciupata da due passi per l'appena entrato Davide Toscano. Ma la squadra di Moretti insiste ed appena un minuto più tardi ci riprova con il bello aggancio e tiro in porta di Attili, respinto da Matera. L'Atletico Roma si affida invece ancora all'estro di Cataldi. La gran botta dal limite dell'area del numero sette, ma ci arriva ancora Placidi a sbarrargli la strada. E sul corner seguente ancora pericolosa la squadra di Baldari. Pallone messo in mezzo nel mucchio, l'incornata da due passi di De Iori, ma il pallone finisce sopra la traversa. E proprio dopo la grande occasione per l'Atletico Roma, al dodicesimo arriva invece il gol del vantaggio, marcato tor di quinto. Calcio di punizione dalla metà campo, scodellato in mezzo all'area di rigore con il pallone che si impenna ed addomesticarlo è bravo a Tili, che controlla ed in girata realizza l'1-0. Davvero un gran bel gol è quello del numero 10 di casa, che taglia un po' le gambe all'Atletico Roma. Gli ospiti infatti faticano a reagire, non riuscendo più a rendersi realmente pericolosi. La sfida del campo testa si chiude dunque sull'1-0, con un altro importante successo per il tor di quinto, che si conferma capolista dell'altro campionato, dato che Roma e Lazio ormai fanno corsa a sé.